ultima del convegno a voi, buona serata, alla prossima grazie per la compagnia come da copione la Petra B la spinge la macchina a largo di tutti nei confronti di Niagara Gifar poi Urma delle Ghiaie le cavali affrontano la piegata viene subito via la grande passione perché è partita veramente alla grande 13 e 4 si presenta passione vediamo Peppe Ruoc che fa fatica a calmare gli ardori della sua Petra B si agganciano un momentino si sganciano e si va dopo 400 la Petra corre al comando 28 e 9 e passione rimane nasino al vento cerca di amministrare ora la leader fuori corso il 4 di Pathway Wise si va al completamento dei 600 i 600 se ne vanno in 43 e 6 andatura buona nelle prime posizioni Urma delle Ghiaie passione a largo allargo anche Parirum viene via Pulcinella Jet ma trova traffico e anche la nebbia tutte e due 59 e 4 e Petra Bli mantiene inalterato il vantaggio sembra che sta sdraiato Little Devil è in fuga palo lontano ma guadagna guadagna chilometro micidiale in 1 13 e 6 14 e 2 di frazione 500 alla meta le cavalli affrontano la curva finale sempre netto il vantaggio della targata B ancora un buon riferimento in 13 e 9 1 27 e mezzo i tre quarti di miglio Petra B al comando viene via Urma delle Ghiaie viene via anche Pio Vrasan Petra B per proprio conto ha fatto un ciocco sembra Petra B se non si ferma l'avvocato già alza le braccia Little Devil viene via la grande Urma delle Ghiaie Pio Vrasan e anche il 9 di Polinas Petra B come quando vuole secondo è il numero 1 di Urma delle Ghiaie il 2 poi c'è anche Maisto nelle prime posizioni andiamo a rivederle un po' il 10 Nemesi Rab allora andiamo a rivederle un attimo Petra B per proprio conto 1 57 e 8 1 13 e 6 questo è il primo piano poi l'1 di Urma delle Ghiaie il 2 di Pio Vrasan il 10 di Nemesi Rab e il 9 di Polinas questo dovrebbe essere l'ordine di arrivo ufficioso di questa tris quartè quinte sostitutiva con un elogio veramente fuori dal comune a Little Devil a Petra B all'avvocato e Grazie a tutti.